Ciao, sono Maria Mazzocchia e queste sono le notizie più importanti della settimana pubblicate su Elemente. Berlino, Nadia Tolokonnikova delle Pussy Riot contro Putin. Speriamo che la natura faccia il suo corso. Nuovo bilancio finanziario del governo tedesco. Novità e riforme che riguardano reddito di cittadinanza, welfare e ambiente. Germania, 5.000 euro di multa agli anti-abortisti che molestano le donne davanti ai consultori. Riforma welfare. Sarà possibile assegnare lavori con pendolarismo fino a tre ore a chi percepisce il reddito di cittadinanza. Nuovo gruppo per AFD al Parlamento Europeo. Europa delle Nazioni Sovrane. La nuova formazione è più a destra del gruppo identitario di Le Pen e Salvini. Missili USA stazionati in Germania. Il commento di Mosca. La nostra risposta sarà militare. Per ora è tutto. Trovate questi e altri articoli fra le pagine del MITTE, magazine online per italiani che guardano alla Germania.